sii? si salve buongiorno c'è un pacco per lei dovrebbe mettere una firma ah grazie sa che sarà ci siamo già visti da qualche parte? no 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 assolutamente la prima volta che vengo qui ne scusi magari è soltanto un'impressione mia ecco qua ah perfetto la ringrazio di tutto arrivederci e no aspetti un attimo devo controllare il contenuto che sia tutto intatto controllo ma guardi ci metto un attimo e la mando via subito va bene che c'è sarà qua dentro stavolta vediamo 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 oh cacchio figo la nuova yanio pocket air bello bello questa ci faccio subito la recensione che cos'è questo figlio di una buona toto che vuoi? va a prendere il corriere come scusa? toto vai e rincorri il corriere ci ha pregato la console vai ma tu me sa che guardi troppi film? inutile palla di pelo adesso torto io torto oh ciao tesoro senti una domanda quanto pesa poco? ah 7 chili e mezzi eh? si si ciao ti voglio bene si si ciao 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 Quella che secondo me è la miglior console Android attualmente sul mercato, anche se sta per essere immessa ma questione di giorni. E cioè la nuova Aya Neo Pocket Air, veramente bellissima anche nei colori che io un attimo all'inizio ci ho storto un po' il naso ma poi mi sono reso conto che sono veramente fighi, molto retro, somiglia quasi a una Evercade. Ovviamente ripresi dal primo Famicom, devo dire che questa piccolina ha una bella serie di chicche soprattutto perché è la prima console Aya Neo che arriva con il loro sistema proprietario basato su Android. E adesso lo andiamo a vedere meglio perché secondo me stanno facendo un ottimo lavoro. Ovviamente sì ragazzi lo so, uscirà a dicembre la Odin 2. Ne parleremo anche in questo video perché confronteremo le specifiche e i prezzi di entrambi, giusto per farvi capire a che livelli di console e soprattutto di potenza siamo. Aya Neo Pocket Air Retro Edition, per ora l'hanno fatta solo così però guardate guardate quant'è carina mamma mia la scatola, sa proprio di retro gaming, santa miseria. Come indicato sul retro noi siamo andati a prendere la versione mezzana diciamo così, la 8 giga di ram più 256 giga di memoria interna. Andiamo a vedere dentro. Già così per me vale la pena, soltanto per l'impacchettamento. Ecco subito la nostra consolina che però andiamo a vedere dopo. Oh che bella! Scendiamo ai piani inferiori per trovare il cavetto di ricarica da USB tipo C a USB tipo C, questa volta non abbiamo la vecchia USB. e la solita manualistica molto completa sia in inglese che in cinese, dove per la prima volta andiamo a vedere l'Aya Space di cui però parliamo tra poco. Non c'è altro in confezione quindi andiamo a vedere la consolina. Allora qui ragazzi questa volta di cose da dire ce ne sono veramente tante perché lei è un piccolo gioiellino. Partiamo al solito dalle dimensioni, abbiamo un 224 mm per 89 di altezza per 17 di spessore nella parte stretta e circa 28 mm nella parte dei dorsali. È incredibilmente simile alla nostra cara e amata vecchia Odin. Risulta più spessa l'Aya Neo ma perché ha una batteria buccamente un processore più potente. La sensazione di questa Aya Neo è un'evoluzione della Odin, chiamiamola a livello di touch and feel. Nella parte superiore troviamo i tasti dorsali LB e RB a singolo click ma con una pressione molto molto pulita. Mentre abbiamo i tasti LT e RT analogici con una buona corsa e ovviamente regolabile lato software. Abbiamo inoltre anche due tasti speciali che abbiamo già visto nelle altre Aya Neo che si trovano esattamente attaccati ai dorsali e si vedono a malapena però possono sempre far comodo come funzioni speciali. Oltre a questo abbiamo lo sfiato delle ventole dalle quali esce l'aria calda, l'ingresso del microfonino, i tasti del volume più e meno e il tasto di accensione standby e spegnimento con il solito sensore delle impronte molto molto preciso per lo sblocco del dispositivo. Nella parte inferiore invece troviamo i due speaker stereo che hanno un suono molto molto pulito. L'uscita 3.5 mm per il jack audio, questi sono gli agganci per un eventuale dock station che si può prendere sul sito e l'ingresso USB tipo C per ricarica trasferimento dati. Oltre a questo però ragazzi c'è lo sportellino che questo è fatto veramente bene, spero che tutti quanti adottino questa soluzione. Con l'alloggiamento sia per la micro SD che per un eventuale sim card perché lei supporta il 4G. Nella parte frontale invece troviamo i due analogici con pressione L3 R3 con il giochetto RGB. Io adesso li ho messi con i quattro colori di Google e il fading tipo respiro, però li potete impostare come volete. Poi troviamo i quattro bottoni azione con una pressione e un feedback ottimo, ritornano su molto velocemente e non sono troppo duri da premere. I due tasti speciali per richiamare la IASpace sia in modalità programma intero che soltanto con la tendina, diciamo così. E i due tasti Android per menu e task manager che possono essere usati principalmente per select e start quando andiamo a fare retro gaming. Quello che mi è piaciuto tanto ragazzi è questa croce direzionale. Sporge il giusto, anche un po' di più delle altre console. Come vedete la pressione ha una corsa bella lunga. Queste sono proprio le croce direzionali che preferisco perché queste per i picchiaduro, e lo vedremo anche dopo, fanno la differenza e sono veramente veramente piacevoli. Al centro di tutto questo troviamo un bellissimo pannello AMOLED da 16.9 risoluzione Full HD da 1920x1080 pixel. E vi assicuro ragazzi che è probabilmente il miglior schermo che io abbia mai avuto sotto le mani. Guardate l'angolo di visuale e guardate soprattutto la nitidezza dei colori. È vero ci sono bordi importanti perché qui parliamo di 5.5 pollici di grandezza. Forse si sarebbero potuti sforzare ed arrivare intorno ai 6 pollici. Però diciamo che se questi bordi sono il sacrificio per averci dato uno schermo AMOLED con questi colori, con queste tonalità, sti gran cazzi perché è veramente bellissimo. Per farvi capire la differenza guardate che razza di neri assoluti. Non c'è quasi differenza con i bordi laterali. Si tiene molto bene in mano, soprattutto i controlli si trovano nella posizione giusta e riusciamo a raggiungerli in maniera molto naturale. Non dobbiamo stare a complicarci la vita con pollici chissà dove. La doppia bombatura, leggermente più piccola nella parte alta e maggiore sotto, permette un grip sulla mano ottimo. E il peso in generale è distribuito in maniera molto fluida per tutta quanta la console. Anche perché comunque sia è un peso abbastanza importante, 377 grammi. Ma oltre all'estetica e al touch and feel, il vero punto di forza di questa consolina sono le specifiche. Perché al suo interno troviamo un processore octa-core dimensity 1200 da 3.GHz di frequenza massima, abbinato a una Mali G77 da 800 MHz che arriva fino a 800 GFLOPs, che attualmente è uno degli abbinamenti più potenti mai visti in una console Android. Come RAM e memoria interna abbiamo una scelta di tre tagli, 6 più 128, 8 più 256, 12 più 512. La RAM è un LPDDR5 ad alta velocità, mentre la memoria interna è un UFS 3.1, che comunque supporta anche una microSD esterna fino a 2TB. Altro punto di forza è la batteria, ragazzi, 7350 mAh. In modalità normale riesce a tenere fino a 7-8 ore, nonostante i display AMOLED consumino leggermente di più degli IPS. Ovviamente se la mettete alle massime performance scendiamo anche sotto le 3-4 ore. Mentre come sistema troviamo un Android 12 con l'aggiunta dell'Aia Space, che è un Lancer personalizzato apposta per le console Aia Neo, che ci dà tutta una bella serie di funzioni che adesso andiamo a vedere nel capitolo dedicato. Sì ragazzi, sono delle bellissime specifiche. Non ne abbiamo viste ancora in nessun'altra console Android a questi livelli. Però la domanda che tutti vi starete facendo è quella con cui poi ci riagganciamo all'inizio del video. Ma sta per uscire la Odin 2? Quella è meglio? È peggio? Varrà la pena? Eccetera eccetera. Allora, boni, fermi. La Odin 2 è attualmente in rilascio su Indiegogo ed è stimata la prima spedizione per dicembre 2023. Vi dico per esperienza, spero di no, a diverse persone arriverà a dicembre, secondo me gli altri anche a gennaio, forse addirittura febbraio. Quindi diciamo che abbiamo ancora dai 2 ai 3 mesi prima dell'uscita. Però la Odin 2 come caratteristiche effettivamente si pone ancora più sopra rispetto a questa Ia Neo. Perché già l'abbinamento CPU-GPU è migliore visto che utilizza un Octa-Core Snapdragon Gen 2 Kiro da 3.2 GHz. Abbinato a un Adreno 740 a 800 MHz che ha una potenza di calcolo teorica fino a 3.7 Teraflops. Quella sarà una bestia a livello di prestazioni, ragazzi. Una bestia. La ROM è praticamente identica se non che utilizza il nuovo standard 2 FS4 che è leggermente più veloce ma soprattutto sta più attento alla batteria. Mentre la RAM ha un taglio superiore. Anziché 6.8.12 fa 8.12 16 GB. Anche la batteria sarà superiore perché anziché una 7300 avremo un 8000 mAh che in teoria dovrebbe durare di più ma lo Snapdragon di seconda generazione dicono che consuma un po' di meno ma in realtà quando lo fate spingere per spingere ciuccia un bel po'. Quindi lì sarà da fare delle prove per vedere se effettivamente gli 8000 mAh della Odin durino di più dei 7300 dell'Aya Neo. L'unico punto dove è superiore l'Aya Neo è lo schermo appunto perché è un AMOLED se no la risoluzione è la stessa l'unica cosa che cambia è che la Odin ha 6 pollici anziché 5.5. È vero che la Odin 2 avrà delle specifiche superiori a lei però a livello costruttivo secondo me avendo provato già la Odin eccetera sarà ancora un pelino avanti l'Aya Neo. Così a naso avendone provate tante secondo me sarà così soprattutto la croce direzionale e gli analogici di questa sono tranquillamente molto superiori anche a quelli dell'Ambernic. La differenza di prestazioni tra le due c'è però qui c'è dentro d'ora un discorso che vi faccio meglio nelle considerazioni perché non sempre un hardware iper spinto può essere la soluzione giusta. In generale lei è un ottimo dispositivo è molto compatta, i controlli sono ottimi e c'è un bellissimo display oltre ad essere anche parecchio potente. C'è anche proprio quell'odore di nuovo che mamma mia quello è proprio te cusciata ma quello ce l'hanno tutte le console va bene, è un mio feticismo. Colorazione a parte che può piacere o non piacere a me dopo un po' ha iniziato a piacermi secondo me muovendosi in questa direzione ci hanno proprio preso. La vera innovazione di questa console è il software all'interno. Abbiamo la prima release, attualmente quella che avrete voi sarà una successiva a questa che vedete qui da me di Aya Space che si basa sul sistema Android perché sotto abbiamo un sistema stock diciamo così di Android 12 ed è praticamente un lancer Android dedicato ai dispositivi Aya Neo. C'è comunque la possibilità di lasciare il comune Android però devo dire che questo lancer così organizzato fa il suo dovere. Alla fine abbiamo comunque tutte le possibilità che abbiamo in un normale dispositivo Android. possiamo andare ad inserire dei widget possiamo andare ad installare tutte le applicazioni che vogliamo perché comunque sia c'è un Play Store all'interno e tutti i Google Service funzionanti. Entriamo adesso nell'Aya Space come applicazione perché oltre ad essere il lancer del sistema è anche un frontend per tutti i nostri giochi e addirittura ha due opzioni di importazione automatica se venite da un'installazione Pegasus oppure Emulation Station cioè se su una micro SD visto che venivate da un'altra console avete già l'organizzazione delle cartelle e dei giochi secondo uno di questi due schemi lui in automatico importerà le console che ha riconosciuto nel mio caso il Neo Geo con all'interno tutti quanti i giochi adesso io l'ho fatto in questo momento e lui ancora non ha scaricato le copertine ma poi al prossimo riavvio inizierà a scaricare tutto quanto. Oltre a questo tiene anche traccia degli ultimi giochi a cui avete giocato tra le varie applicazioni di emulazione potete creare voi delle playlist a mano direttamente dal frontend cosa molto utile perché in tanti programmi tocca andare a cambiare a mano il file XML addirittura e c'è anche la possibilità di registrarsi o loggarsi per mantenere tutti quanti i salvataggi in cloud e i vari trofei questa è ancora una funzione in fase di sviluppo però puntano a questo qui e sarebbe veramente una cosa molto molto carina ovviamente ragazzi potete caricare i frontend che volete io in questo caso ho fatta la mia solita combinazione dai G-Shock con RetroArc sotto e tutte le varie applicazioni mentre siete in game avete diverse possibilità come quella di richiamare una parte dell'AIA Space dove possiamo vedere i attuali frame per secondo la temperatura, la percentuale della CPU e della GPU la velocità delle ventole che comunque possiamo sempre aumentare o diminuire la possibilità di aumentare le prestazioni da Moita Game a bilanciata oppure a risparmio della batteria possiamo andare a cambiare le impostazioni dei controller come la sensibilità dell'analogico oppure possiamo cambiare la disposizione a BXY tutto da software la luminosità al volume eccetera oppure possiamo andare anche a selezionare i vari widget che possiamo richiamare velocemente senza aprire ogni volta il menu anche in diversi dettagli Android vengono già riconosciuti i controlli della console ma comunque una possibilità che stanno proprio adesso sviluppando sull'AIA Space sarà quella di poter mappare i controlli sullo schermo per i giochi Android che non supportano i joypad esterni questo AIA Space è ancora acerbo non ai livelli beta diciamo così però ci sono molte funzionalità che hanno bisogno di essere riviste o alcune addirittura di essere implementate ma io ce l'ho da un paio di settimane ho già preso due o tre aggiornamenti quindi ci stanno lavorando sopra non ho subito crash particolario che si è bloccato giusto un paio di volte quando uscivo da un gioco ma poi è andato sempre bene quindi normale routine chiamiamola così non è una cosa fastidiosa sicuramente voi avrete una versione migliore di quella che sto utilizzando io però l'abbinamento Android console arcade e software dedicato secondo me è il migliore in assoluto che attualmente abbiamo sul mercato molto molto meglio di tutte le console Windows che fanno molta fatica a darti una cosa del genere perché perché mi stancherò mai di dirlo Windows ragazzi non è un dannatissimo sistema adatto a ste cacchio di console per quanto io possa sbavare dietro a una console del genere Windows non me ce piace dentro passiamo alla ciccia gameplay ok ragazzi la parte arcade è diciamo quasi inutile ve la faccio vedere principalmente soltanto per farvi capire come sono le dimensioni ridotte su un 16 noni che sappiamo non essere la proporzione adatta per i vecchi giochi arcade però qui avendo un display AMOLED sembra a tutti gli effetti che lo schermo sia spento e ti dà già tutta un'altra impressione del classico display IPS invece che ha la retroilluminazione accesa è un po' più carino anche se non andate ad utilizzare i bezel a parte questo va bene prestazioni neanche a dirlo però qui c'è da dire che questo schermo con questi colori con questi contrasti è un piacere utilizzarlo per il retro gaming dove i colori erano così tanto accesi è bellissimo ragazzi ovviamente stesso discorso se saliamo un po' arriviamo al 3D ovvero la Playstation 1 ma perché ormai lo sapete le proporzioni sono sempre quelle il framerate è mantenuto a 60 fisso non scende praticamente mai e qui ancora siamo con le prestazioni a basso livello qui siamo al risparmio energetico e diciamo che fino alla Playstation 1 al Nintendo 64 potete tranquillamente mantenerle così un'altra emulazione che mantiene queste proporzioni e la stessa logica per quanto riguarda i colori è il Dreamcast in questo caso vi consiglio di passare alla modalità normale della console perché con alcuni titoli un po' più pesanti qualche piccolo lag c'è se vi mettete in modalità normale andate tranquillissimi e ci si gioca benissimo col Dreamcast c'ha una risoluzione del Dio vi sembrerà tranquillamente un titoletto Android dei giorni d'oggi vi ci divertite anche parecchio perché i controlli di questa console soprattutto gli analogici hanno una possibilità di mapping e di regolazioni veramente precisa e per i giochi del Dreamcast che richiamavano quelli a sala giochi questo è un fattore determinante abbiamo il display 16-9 se lo vogliamo sfruttare per il retro gaming le console a cui dobbiamo pensare sono prima di tutto la PSP ragazzi che anche qui in modalità normale addirittura la fate girare a 3x di risoluzione e ci gira tutto in maniera super fluida e con una grafica molto molto attuale anche a titoli molto pesanti perché alla fine ci ho caricato God of War Chain of Olympus proprio zero problemi se avevo di zero de zero non ha fatto una piega quindi emulazione della PSP con questo schermo assolutamente straconsigliata e mantenendo il 16-9 per gli amanti del Nintendo DS e del Nintendo 3DS questa è un'ottima soluzione perché avete appunto i due schermini messi uno a fianco all'altro che vi permettono anche con il touch di utilizzare la console in una maniera abbastanza naturale dopo certo potete andare a giocare anche con le impostazioni se volete un attimo vedere più grande uno schermo e più piccolo l'altro perché come per esempio in Mario Kart non vi interessa di nulla vedere attualmente la classifica potete farlo potete sbizzarrirvi come volete questa è un'ottima console per giocare al Nintendo DS o 3DS sia di prestazioni che di schermo andiamo all'emulazione invece più ricercata partendo da Nintendo Wii anche in questo caso titoletti leggeri ci girano molto bene dovete andare ovviamente a configurare tutti quanti i tasti la rottura è quella ma il lato positivo è che la console avendo il giroscopio e i sensori di movimento si può già integrare con l'applicazione Dolphin per fare i vari movimenti quindi potete a tutti gli effetti simulare il comportamento dei Wii Remote parlando del Gamecube in questo caso ho notato che purtroppo funzionano meglio le OpenGL delle Vulcan e questo potrebbe essere un po' limitante per la console però trovata la giusta quadra giocando in modalità normale riuscite a piazzare quasi tutti i titoli della console titoli anche pesanti come per esempio Resident Evil 4 nella scena della piazza questa qui che vedete è girata in modalità normale e non sono presenti i lag non sono presenti i rallentamenti nemmeno quando inquadriamo il fuoco al centro arrivano mille zombie eccetera quindi c'è un'emulazione fluida anche nel Nintendo Gamecube e ancora non siamo al massimo delle prestazioni richieste per arrivare al top delle sue performance ci proviamo la PlayStation 2 ma sono bastardo l'ho mantenuta in modalità normale girano anche titoli abbastanza pesanti come Tech & Tag tenendosi sopra i 30 frame per secondo quindi la fluidità c'è non è quella massima dei 60 però sono giocabilissimi quindi potete giocarci anche per diverse ore i controlli entrano tutti in tempo reale non ci sono minimi lag quindi i picchiaduro li reggete più che bene e arriviamo alle stesse performance anche con titoli come GTA dove i caricamenti sono molto pesanti e ci sono diversi effetti soprattutto di notte per questa tipologia di titoli andate tranquilli anche con la modalità normale titoli più pesanti come Need for Speed in modalità normale scatta ragazzi sì ci si può comunque giocare non scendete mai sotto i 22-23 frame per secondo però ovviamente un titolo del genere che deve essere iperfluido dove vai a guidare quindi anche con parecchia precisione lì è ovvio che ti aspetti un frame rate migliore se la mettete in modalità performance e game le cose migliorano nettamente ovviamente a discapito della batteria però abbiamo tra le mani una console che da tutte le prove che ho fatto riesce ad emulare un buon 80-90% dei titoli PlayStation 2 senza parlare poi invece di quello che è il discorso Android ragazzi titoli come Shadowgun Legend si vedono benissimo colori iper sparati ce li avete a tutto schermo non c'è l'ombra di lag vanno al massimo e pompano al massimo la risoluzione che possono in full HD ma anche i titoli più pesanti vedi Asphalt 9 non ha avuto il minimo problema cioè guardate voi se questa non vi sembra un'esperienza di gioco ottimale questa la trovate quasi sui telefoni di fascia alta e invece anche lei con il suo Dimensity 1200 riesce a farvi giocare in maniera fluidissima simulando quasi le prestazioni di quei dispositivi ovviamente a titoli più leggeri vedi Coromon lì non ha il minimo problema però su titoli come questo ti accorgi proprio della differenza tra un AMOLED e un IPS qui l'AMOLED sembra che è veramente accesa soltanto la parte centrale dello schermo quindi tu potresti anche pensare che il gioco è a 16.9 sto facendo delle prove quindi non ve la faccio vedere qui perché potrei trarre in inganno ma dovrebbe essere buona anche per l'emulazione della PS Vita che ha un emulatore per Android uscito da poco che ha ancora diversi bug quindi datemi un attimo di tempo piano piano inizieremo a vedere anche quell'emulatore e anche quell'emulazione qui da quello che ho potuto vedere le prestazioni per emularla ci sono ovviamente devo fare più prove per vedere fino a che tipo di titoli riesce a supportare questo hardware veniamo alla votazione dimensione e portabilità le diamo 89 perché ci hanno dato una console che si tiene ben in mano anche per persone che hanno problemi di vista perché lo schermo è bello grande ovviamente non ti va in tasca però ho fatto le prove basta una qualunque custodia della Nintendo Switch per portarcela dietro non utilizzate quelle da Switch Lite perché lì non c'entra ho fatto la prova con quella del Zelda touch and feel 97 perché qui la qualità ragazzi c'è e si sente hardware 90 perché c'è un buon abbinamento CPU-GPU c'è tanta RAM e tanta memoria interna schermo 93 non le do il massimo perché una diagonale 16 decimi nel nostro caso era meglio e forse potevano spingersi almeno fino ai 6 pollici controlli 95 perché come ve l'ho già detto sono ottimi porte 90 connettività 95 perché è una delle poche console che ha anche il modulo 4G se vuoi giocare ai titoli online non c'è bisogno che la metti in tentering con il telefono e non ti si scarica anche la batteria del telefono sistema operativo 90 ma perché devono ancora fare degli aggiustamenti sull'Hia Space emulazione 90 perché arriva bene fino alla Playstation 2 ovviamente la devi un po' portare su di performance ma non è mai come le console Windows che se la porti su performance ti dura un'ora batteria 0.90 proprio per questo motivo prezzo 85 e adesso qui si apre una parentesi gigantesca la console si trova attualmente su Indiegogo perché è ancora in campagna di crowdfunding però siamo alle fasi finali tra poco apparirà sul loro sito ufficiale alla vendita comune i prezzi attuali a cui la trovate su Indiegogo adesso che ha la seconda fase sono nei tre diversi tagli 300 dollari, 380 e 460 mentre i prezzi cambieranno una volta che sarà inserita all'interno del sito ovvero 319 dollari, 429 e 519 a tutto questo purtroppo c'è da aggiungere le solite tasse di importazione e l'eventuale dogana soprattutto se prendete DHL perché DHL invece la mette sempre 4PX, se ve lo fanno scegliere spesso ve la fa evitare sono prezzi che tutto sommato sono giustificati adesso non guardate che noi siamo in Europa e abbiamo la sovrattassazione se vogliamo fare un paragone con quanto costa la Odin 2 attualmente la troviamo anche qui su Indiegogo a 294, 370 e 447 dollari però è alla prima fase della campagna anche la Yaneo in prima fase costava leggermente di meno quindi come prezzo paragonata alla Odin io forse avrei scalato qualcosina non troppo diciamo 30, 40, 50 euro sulle tre varie versioni se venivano questo di meno magari attutivamo con le tasse e allora avevamo tra le mani un ottimo prezzo però è per questo che gli ho dato 85 perché secondo me potevano rosicchiare qualcosina è vero questa a giorni la trovate sul sito e vi arriva subito la Odin la troverete a dicembre poi i primi che hanno fatto l'ordine perché ci vorrà un po' prima che arrivi a tutti quanti quindi dovremo aspettare ancora diversi mesi tutto questo ci dà una votazione di 91 ai quali voglio aggiungere bene 4 dei miei punti bonus per portare il voto finale quindi a 95 perché ve lo spiego adesso punti a favore ottimo format ottimi materiali ottimi controller bellissimo display e soprattutto questa è più una considerazione personale in base all'esperienza che ho avuto finora con queste console sistema Android è mille volte più user friendly di Windows perché le applicazioni, il sistema è nato per funzionare su questi dannatissimi mini display Windows è nato per funzionare su un maledetto proiettore da millemila pollici e ancora non sono riusciti a fare una dannatissima interfaccia mobile ci provarono con Windows 10 ma addirittura mi sa dall'otto e fecero una ciofeca che non vi dico da quel momento in poi non ci hanno provato più è vero le console Windows ti danno tutto il supporto per i giochi Steam i giochi AAA eccetera questo è in dubbio ragazzi però continuo a dire che la seconda generazione che abbiamo adesso tra le mani la IA Neo 2 l'Asus ROG Allie l'Hack Zoya 1 che proveremo a breve tutte queste sono console molto complicate perché se le spingi al massimo le prestazioni te durano un'ora non puoi nemmeno metterle a caricare mentre giochi perché ti si infuoca e soprattutto ha voglia a metterci dentro il peggio hardware a darmi la compatibilità con tutti i titoli del catalogo Steam e poi quando ci gioco ci posso giocare un'ora con buona parte ovviamente quelli leggeri no ma quelli leggeri 90% c'è anche l'applicazione su Android quindi sì sono contento che è stata immessa sul mercato una console Android con queste prestazioni è da parecchio che non le vediamo adesso stavano andando tutti sul lato Windows sono contentissimo che sono tornati su Android e continueranno anche in questo perché hanno creato il sistema Aya Space quindi ci stanno spingendo sono anche contentissimo che uscirà la Odin 2 che sarà un nuovo flagship di prestazioni come abbiamo detto ma lì c'è il discorso che vi facevo prima forse forse su Android ci salviamo però abbiamo già visto su Windows soprattutto con la ROG Allie è un po' il discorso che facevamo l'altra volta cioè se te do una Panda e me ce metti dentro il motore Bena Ferrari quella è una Panda che me va a 300 all'ora ma è inguidabile cioè non curverà mai me cappotto alla prima curva ok che la Panda sopravviva a tutto una Panda invece con dentro il motore di una BMW la migliora molto e la rende forse ancora un po' guidabile di sicuro non te c'è schianti alla prima curva ovviamente è un discorso esasperato e ragazzi capite il senso la ROG Allie ci ha dato il peggio hardware ma appunto ci giochi poco e infuoca per quanto poi sono corsieri pari con via software eccetera eccetera stanno facendo un buon lavoro però al pubblico ormai ci sei uscito e infatti sta uscendo adesso la versione con la AMD non extreme quello leggermente meno pompato che secondo me potrebbe andare anche meglio della versione più potente però purtroppo non ce l'ho tra le mani quindi non riesco a fare la prova ne sentiremo parlare nei prossimi mesi sicuramente a chi consiglio questa console? prima di tutto posso dirvi che la versione mezzana è quella da prendere Android andrà a pesare piano piano con il tempo un po' di più anche il suo software interno quindi forse 6 giga ci state appena appena strettini per il retro gaming bastano però se volete giocare anche i titoli Android iniziate a stare un po' stretti quindi prendete almeno quella da 8 è sicuramente una spesa quindi non la possono comprare tutti occhio anche al portafoglio quello che posso dirvi è che è una console che se la comprate la configurate perché ovviamente va configurata a mano non ci sono giochi all'interno fatto tutto questo non vi ci staccherete più perché la batteria dura parecchio ve la potete portare dentro casa ve la potete portare in giro come vi portate una normalissima Nintendo Switch se ci volete spendere qualche soldino in più ci attaccate anche una lockstation la attaccate a televisore non è la classica console che prendi e dici cacchio devo studiarmela per giocarci vedi anche per esempio la Steam Deck quando c'è il 40% di batteria devi ricordarti di metterla a caricare se vuoi giocarci perché se no 20 minuti e ciao non la consiglio a chi è interessato la Odin 2 anche se dovrà aspettare qualche mese non è ancora uscita non l'ho ancora provata ho visto soltanto qualche recensione quindi quello che vi dico riguardo la Odin 2 ragazzi prendetelo solo come considerazione e non c'è niente di definito perlomeno che ho provato io e la sconsiglio tra virgolette a chi non è in grado di configurarsi una console con tutti quanti gli emulatori avete tutte le guide sul canale per configurare console Android andate a darci un'occhiata se pensate di essere in grado di rifare tutti quei passaggi allora un pensierino per questa IANEO Pocket Air fatecelo bene ragazzi per questo video è tutto spero vi sia piaciuta la recensione vi prego iscrivetevi almeno diventiamo un po' più persone me ne mandano un po' di più da provare e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao